Dimon, Dimon! Sì, Odisseo, che cosa c'è? Ho visto su TikTok dei ragazzi che chiamavano al telefono Hagiwagi Cosa stai beliferando, Odisseo? Come fa Hagiwagi ad avere un telefono? Sono tutte sciocchezze! Non lo so, Dimon, ma perché non proviamo? E va bene, Odisseo, proviamo, ma sappi che non funzionerà, è una perdita di tempo, ma se questo è quello che vuoi, facciamolo, solo per tranquillizzarti! Guarda, Dimon, non ti faccio vedere come hanno fatto, ok? E va bene, diamo un'occhiata Oh, ce l'ho fatta, guarda! Oh, ma sta chiamando per davvero! Come può essere reale, Odisseo? Shhh, fai silenzio, Dimon, forse sentiremo qualcosa Va bene, va bene Dimon, è molto strano, dovremmo spegnere il telefono, forse Forse dovremmo spegnere il telefono, Disseo Oh, che è successo, Disseo? L'hai spento? Sì, Dimon, cos'è stato? Mi sono spaventato così tanto Te l'avevo detto, Disseo, è una cattiva idea chiamare Hagiwagi Perché l'abbiamo fatto? Dai, Dimon, calmati, forse non significa nulla, è solo uno scherzo di qualcuno, ok? Va bene, va bene Oh, mio Dio, tanta paura Forza, 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 forza No, sono caduto Ehi, Odisseo, io vado a letto Assicurati che le luci siano spente e che la porta sia chiusa a chiave, sai? Io vado a letto, ciao Sì, sì, Dimon, controllerò tutto Ok, ok, perfetto Andiamo, andiamo Forse mi sono immaginato tutto Va bene, continuo Bene Ah, ok, va bene Andiamo a vedere cosa c'è Ragazzi, ora non me lo sto immaginando di certo, credo Ragazzi, vado a controllare di sotto perché c'è qualcosa che non va Oh, ragazzi, andate a letto Dimon Oh, da dove viene questa luce? Oh, non ci credo Ragazzi, vado a svegliare Dimon Dimon, svegliati, 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 dai Dimon Che è successo? Perché mi hai svegliato per dente? Torna a dormire Dimon, Aghiwaghi è venuto a mangiarci Di cosa stai parlando, Odisseo? Cosa? L'ho visto giù nel corridoio Che dice, Odisseo? Ci andiamo a vedere Ma, Odisseo, se era uno scherzo ne prenderai Capito? No, no, andiamo a vedere Andiamo, dai Cosa c'è? Non c'è nessuno qui, Odisseo? Molto strano, ho appena visto Aghiwaghi proprio qui Odisseo, forse hai fatto un brutto sogno e ti stai immaginando le cose? No, no, Dimon, l'ho visto, ne sono sicuro Cavolo, Odisseo, ti dico che era... Hai sentito? Sì, l'ho sentito Sarà stato Aghiwaghi? Andiamo a vedere Andiamo a vedere, dai Andiamo, andiamo Oh, sta nuotando nella nostra piscina Sì, hai ragione, Odisseo È vero, Aghiwaghi, ho capito tutto, Odisseo Quando l'abbiamo chiamato pensava che stessimo chiamando per farci visita Ed è per questo che è qui Sì, hai ragione Non ci credo, Dimon, è stata una cattiva idea Ripetere quello che c'è su TikTok Sì, Odisseo, è tutta colpa tua, tua Ora, mentre lui è in piscina, chiudiamo in fretta la porta in modo che non entri Forza, chiudila, 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 chiudila Così, così, così Bene, andiamo a chiuderla anche lì Forza, forza, forza Dai, 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 va bene Così la sto chiudendo Sì, chiusa, Odisseo Sì, Dimon, ho chiuso la porta in la cucina Cosa facciamo ora, Odisseo? Quanto dobbiamo aspettare che Aghiwaghi se ne vada da qui? E cosa facciamo se non lo fa? Aspetta, Odisseo, devo pensare Il telefono, quando mi chiama, aspetta Oh, Odisseo, mi sta chiamando Aghiwaghi Non è possibile, non ci credo Amici, guardate, è Aghiwaghi che mi chiama Incredibile, cosa facciamo adesso? Cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare? Lasciate, lasciate, scappiamo, scappiamo Andiamo, andiamo, andiamo Dimon, qualcuno ha suonato il campanello Odisseo, dobbiamo calmarci Sì, sì, Dimon hai ragione, sì Odisseo, dai, piano, piano, con calma, con calma Piano, piano Piano, Odisseo, dai, dai, dai Sì, sì, andiamo Sì, sì, Dimon, apri la porta, dai Sì, 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 sì Odisseo, non c'è modo che Aghiwaghi possa entrare Sì, sì Chiudi, 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 ho dimenticato di chiudere Dai, 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 dai Allora, Odisseo, dobbiamo trovare un'arma a distruggere Aghiwaghi In modo che lui non torni mai più da noi Sì, Dimon, lo distruggeremo Stai pensando quello che penso io, Odisseo? Sì, Dimon, voglio mangiare un hamburger Sei pazzo? Che hamburger, che hamburger? Andiamo a cercare la migliore arma di Nerf e distruggiamolo Ah, sì, Dimon, entendi questo Andiamo, 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 forza Forza, cerca nel magazzino, Odisseo, dai Forza, forza, dai, dai, dai Dove possono essere... Sì, Dimon, l'ho trovato, ecco qui Prendilo, prendilo, dammelo, dai Bene, Odisseo, siamo pronti Abbiamo ancora bisogno di qualcosa con cui difenderci Sì, Dimon, hai ragione, ma cosa posso inventarci? Metti questo, metti questo, dai, 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 dai È un giubbotto antiproiettile che aiuterà sicuramente Sei pronto, Odisseo? Sono sempre pronto Amici, vedete come siamo coraggiosi Andiamo a combattere contro Aghiwaghi Ma se anche voi siete coraggiosi, dimostratacelo, amici Iscrivetevi ai nostri canali E sarete i primi a vedere tutti i nostri video Non è così, Odisseo? Certo, sì Andiamo, forza Tieni gli occhi aperti, Odisseo Avanti, tutto pulito Tutto pulito qua Allora Odisseo, nella cucina non c'è nessuno Va tutto bene qui Sei impazzito? Sei impazzito? È colpa tua, non vedi dove vai? Comunque, ok, Dimon, qual è il piano adesso? Allora Odisseo, ascolta quello che faremo Tu aprirai la porta, mentre io invece sparerò No, no, Dimon, è meglio che apriamo la porta insieme Che gli spariamo insieme o ci batterà sul tempo E va bene Odisseo, ma come pensi che ci riusciremo a farlo? Senti Dimon, tu apri la porta e io gli sparo da terra E tu spara dall'alto Appena la apri spara subito Ok, subito Sì Odisseo, vedo che guardi film d'azione, eh? Però potrebbe anche funzionare, eh? Sì Dimon, fidati di me Bene Odisseo, andiamo avanti con il piano Va bene, andiamo, dai Andiamo Odisseo, sei pronto? Uno, due, tre Cosa? Odisseo, non è qui Sì Dimon, lo vedo Senti Dimon, pensi che ci abbia sentito o si sia spaventato? Non lo so Odisseo, forse ci sta solo facendo uno scherzo? Non so voi amici, ma io ho molta fame Anch'io Odisseo, adesso ci sediamo e facciamo uno spuntino a testa Sì Dimon, uno spuntino non ci farebbe male E va bene Odisseo, visto che Huggy Wuggy è scomparso Apriamo la porta del balcone per far entrare un po' d'aria Sì, facciamolo Finalmente aria fresca Che bevanda deliziosa Che dolci deliziosi Odisseo, devo andare in bagno Anch'io Hai sentito? Sì, l'ho sentito Odisseo, prendi subito la torre e sparagli Sì Dimon, forza, andiamo Spara Odisseo, spara, spara, forza, 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 forza Forza, spara, forza, 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 dai Forza, spara Se ne è andato, se ne è andato Odisseo Attraverso la porta del balcone Sì Dimon, corri a chiudere la porta subito Sì, bene, bene, bene Odisseo, bene L'ho chiuso Odisseo Sì Dimon, è stata una pessima idea invitarlo a casa nostra E non fa niente Odisseo Almeno abbiamo saputo che Huggy Wuggy ha un telefono Meno male che c'è, siamo liberati Bene amici, se vi è piaciuto il nostro video mettete mi piace Iscrivetevi Premete la campanella per non perdere nessun video E ci vediamo L'hooo L'hooo Grazie a tutti.